Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovi video di news, nuovo video di aggiornamenti su Call of Duty Advanced Warfare. Ieri è stato annunciato il quarto DLC, l'ultimo DLC previsto per Call of Duty Advanced Warfare, il DLC Reconing. In arrivo su Xbox Live il prossimo 4 di agosto e considerate un mese più tardi su piattaforma PlayStation e piattaforma PC. Oggi volevo parlare della modalità Exo-Zombies, cioè del quarto episodio degli Exo-Zombies che prende il nome di Dushand. Praticamente sarà il culmine della saga degli Exo-Zombies. Verrà proposta appunto una nuova mappa, nuovi nemici, una nuova arma e tanto tanto altro. Nell'ultimo episodio il team, composto da Bill Paxton, Rose McGowan, John Bernantal e il nuovo membro che è stato introdotto nel terzo DLC, Bruce Campbell, dovranno scappare da una porta aerei Atlas, dove praticamente sono stati ovviamente bloccati dai non morti. Quindi scopriranno che il loro amico, se non membro della squadra originale, John Malkovich, di cui avevamo già parlato nel terzo DLC, è stato trasformato in un non morto. Quindi dovranno vedersela con un non morto. All'interno di questo nuovo DLC, di questo nuovo episodio degli Exo-Zombies, troveremo una nuova arma, di cui vi ho fatto un video ieri, che prende il nome di Trident o Trident, che è un'arma ad energia riflessa, quindi spara e il raggio va praticamente in tutte le varie direzioni, come una pallina impazzita ed uccide tutti gli zombie. Troveremo un nuovo mostro, troveremo anche una nuova corazza, una specie di XS-1 Goliath, per uccidere i nemici, quindi ci sarà veramente tantissimo da divertirsi, quindi pronti che dal 4 di agosto comincerò a giocarlo qui sul mio canale. Fatemi sapere che cosa ne pensate e, secondo voi, se questo è il più bel DLC dedicato agli Exo-Zombies, al momento, secondo me, il più bello è Carrier, il terzo. E questo, non appena lo proverò, vi dirò se veramente vale la pena dire che è più bello del terzo, oppure no, perché al momento Carrier, secondo me, è la più bella mappa DLC degli Exo-Zombies su Call of Duty Advanced Warfare. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.